Niccolò Volpe, ieri sera Matteo Bacocchi ha detto che vi sareste dovuti divertire in campo. Stasera è venuta fuori una bella Italia e è arrivata la seconda vittoria. Sì, stasera ci siamo divertiti, abbiamo cercato di fare il nostro meglio con una squadra che comunque pur essendo a zero punti finora ha dato fastidio sia alla Polonia che alla Slovenia, quindi non era semplice, però abbiamo giocato bene e è stata una buona partita. Domani una giornata di riposo e poi ci sarà la Serbia. Sì, domani riposiamo e poi contro la Serbia sarà una partita ancora più difficile perché vengono da una sconfitta, quindi daranno di tutto per cercare di passare il turno e rubarci dei punti.